Buongiorno a tutti, sempre giovedì, un saluto da punta di uno dei re magi, punta Gaspar, laggiù la Maison de Chamois, lago Lavoire a sinistra, di là i laghi Margherita, il tabor davanti a noi, poco più alto, i laghi del Ture, i due laghetti, uno sotto e uno sopra, la Guia Rossa 2005, Cima Sur, Colle del Sur, Mezzodì, Charrà, e là sotto che non si vede Bardonecchia, 8.35 del mattino, io e Mitch, ora si va in direzione punta di Sant'Ippolito, buona giornata, oh aspetta Mitch facciamoci due foto,